Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Apriamo parlando dell'iniziativa che in realtà ha riguardato tutta Italia nel segno del dolore, del ricordo della strage di Capaci. Sono trascorsi 24 anni, una strage che è costata la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. In questa giornata l'Abruzzo si è unito ad un grande evento che ha coinvolto altre città italiane nel quale migliaia di giovani hanno incontrato i rappresentanti della magistratura e delle istituzioni. Palermo chiama Italia, questo è il titolo della giornata ed è stato un momento di riflessione sulla lotta alle mafie. Un anno fa ricordato si trovava a Palermo in questa giornata, adesso tutto si sposta a Pescara. Qual è il contributo che devono dare le altre città e soprattutto le persone? Si tratta di promuovere una grande alleanza tra la scuola, il mondo dell'istruzione, la cultura e il mondo della giustizia. Andorino Caponnetto diceva che la mafia teme la scuola più della giustizia e che l'istruzione toglie erba sotto i piedi dalla cultura mafiosa. È una verità che dobbiamo assumere come motto. Qualcuno ha ricordato che la mafia in questi 23-24 anni è cambiata perché non usa più il tritolo ma usa i colletti bianchi e allora in questo caso come si combatte? La mafia si trasforma, cambia pelle, individua nuovi business, nuove attività e quindi è tuttora pericolosa. Si combatte facendo prevenzione. Pescara è al centro di un avvenimento importantissimo, Palermo chiama Italia, 1500 giovani, si parla della memoria di quelli che sono stati gli agguati a Borsellino e Falcone e oggi qua si parla di legalità, si parla di coraggio. Il sindaco di Pescara ha una doppia valenza, uno perché ha un cognome che riporta proprio a quella che è stata un'atrocità, l'altro perché questa città diventa un importante simbolo oggi. Attorno all'anniversario di Camaci si è sviluppato un grande percorso che vede coinvolti in Italia 50.000 studenti. Lo fa nel senso di ricordare quella stagione rivolgendo l'insegnamento della stessa proprio alle giovani generazioni. Giornata di lutto cittadino ieri a Teramo per l'ultimo saluto a Marco Pannella, il leader dei radicali morto all'età di 86 anni ha scelto di tornare nella sua terra d'origine per essere seppellito accanto ai suoi familiari nel cimitero di Cartecchio. Andiamo a vedere il racconto della giornata nel servizio di Elisa Leuzzo. E' tornato nel suo abruzzo Marco Pannella, la sua volontà di tornare a Teramo è stata esaudita e ora riposa nel cimitero di Cartecchio accanto alla madre. C'erano tutti per l'ultimo saluto al leader dei radicali, un lungo applauso ha accolto l'arrivo di Marco Pannella sabato notte ad aspettarlo in piazza Orsini un migliaio di persone. Una fila ininterrotta di Teramani ha reso omaggio a Marco Pannella nella Camera Ardente allestita all'interno del comune, elevato e continuo il flusso di gente che dalle 7 del mattino fino alle 15 del pomeriggio ha affollato la sala consigliare. A fare gli onori di casa il sindaco Maurizio Brucchi e con lui anche il rettore dell'Università di Teramo Luciano D'Amico e il presidente della provincia Renzo Di Sabatino. Il vescovo di Teramo, Monsignor Michele Seccia, è stato tra i primissimi alla riapertura della Camera Ardente a rendere omaggio. Sono vissuto nello stesso isolato, ha detto Monsignor Seccia, quando tra i miei studi di filosofia e teologia alla Statale di Roma, negli anni davvero ruggenti dopo il 68, sognavo fare sintesi. Ecco, sono qui e ho fatto la mia sintesi, ognuno fa la propria. Sono qui e ho fatto la mia sintesi, ognuno fa la propria, ma non vuol dire che tutto ciò che si sente sono da fare delle scelte e ognuno sceglie poi ciò in cui crede, ma alla fine la verità si ritrova sempre. Questo è poco, ma sicuro. A poca distanza dall'alto prelato, un altro prete ha fatto il suo ingresso in sala, Donaldino Tommasetti, parroco della Cattedrale. Un infinito corteo che ha omaggiato il feretro di Pannella, mentre nella sala risuonavano le note di Santino Spinelli, la cui musica piaceva molto a Pannella, non solo per la sua qualità, ma anche per i valori di tolleranza, integrazione, libertà e convivenza civile, che l'intellettuale di origine rom incarna con la sua persona, la sua arte e la sua biografia. Spinelli ha ricordato il concerto a Teramo, dove Marco era nel pubblico, poi è salito sul palco e si è messo a cantare in perfetta lingua rom, questo ritornello che dice o fratelli o figli. A Teramo anche Emma Bonino, che resta per tutto il tempo in silenzio, Mirella Parachini, la compagna di una vita, e il racconto della fierezza di essere teramano, la chiave della sua città, che gli era stata consegnata il 13 maggio, quando era ancora a casa. Io credo che basta andare a risentire come Marco parlava di questa città per rendersi conto di quello che gli ha lasciato, stiamo parlando di radici. Laura e Matteo, gli amici di Marco, i due angeli che hanno vissuto gli ultimi 100 giorni nella panetteria del leader radicale. Grazie Marco, anche per questi giorni, perché pure in questi giorni sei riuscito a farci ridere, ci hai anche fatto piangere tanto, però come dicevi sempre tu, con felicità. Grazie Marco. Tanti politici, autorità civili e religiose, il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, con cui nel 90 condivise le elezioni comunali, insieme a lui molti sindaci del territorio, la senatrice del PD, Stefania Pezzopane, il presidente del consiglio regionale d'Abruzzo, Giuseppe Di Pangrazio, l'ex presidente della regione, Gianni Chiodi, e il presidente del movimento IDEA, Gaetano Quagliarello, a cui disse, non ti dimenticare che sono un mulo abruzzese. Poi la presenza dell'ex capo della sezione narcotici di Roma, il pescarese Ennio Di Francesco, che lo arrestò nel luglio del 75 per lo spinello in pubblico, in una delle sue innumerevoli iniziative di lotta e di disobbedienza. Il discorso di Marco è qual è? Farsi che la legge, quindi questo principio di legalità, diventa la legge più vicina possibile al sentire sociale. Ecco il messaggio che lui ha lanciato, e che questo lui porterà sicuramente, perché avete fatto una domanda anche... e la porteranno avanti anche gli altri, senza volere. Quindi lo salutiamo il buon Marco. E ora l'Abruzzo gli regalerà un luogo della memoria, un luogo senza tempo, perché non si disperda la quota di immortalità che ha lasciato, ha detto il presidente D'Alfonso. Uno spazio istituzionale della regione, in maniera tale che non si riduca questa consapevolezza a chi lo ha visto all'opera, a chi è stato contemporaneo con lui. C'è bisogno di condividere questa consapevolezza anche con le giovani generazioni. Io oggi ho provato a portare mio figlio di dieci anni, ma diciamo che è rimasto con sua madre, perché voglio che anche quelli che domani saranno cittadini attivi sappiano esattamente, compiutamente, profondamente, che cosa ha rappresentato quest'uomo. Oggi la città ha dato una grande dimostrazione di affetto e di vicinanza nei confronti di questa persona, che nel bene o nel male ha rappresentato la storia del nostro paese, della nostra città, nelle tante battaglie, condivisibili e non condivisibili. Questo è un discorso ovviamente soggettivo, però io ritengo che, insomma, ma ha detta anche tutte le attestazioni di stima che ci sono state oggi, in questi giorni, a livello nazionale. Io non credo che dietro queste attestazioni di stima ci sia dell'ipocrisia, perché, insomma, essere ipocriti in queste situazioni è davvero brutto. Un lungo applauso ha accompagnato la tumulazione, alle 16.24. Sulla bara un drappo bianco, la bandiera del Tibet, una rosa rossa e un pacchetto di toscanelli. È saltata la chiusura dell'accordo con il comune di Bussi per la bonifica delle aree inquinate. La notizia è arrivata al termine dell'incontro fissato questa mattina in Regione Abruzzo, a Pescara. Un esito inatteso che il sindaco di Bussi ha commentato così ai nostri microfoni. L'attesa era per l'incontro sull'accordo di programma per la bonifica e messa in sicurezza del sito di Bussi, quello che per tantissimi anni era stato inquinato all'insaputa di un'intera popolazione. Intorno al tavolo erano seduti il governatore d'Abruzzo, il sindaco di Bussi, i rappresentanti del polo chimico Solvè, funzionari della Regione e in diretta web c'era anche il Ministero dell'Ambiente. Tutto pronto per arrivare ad un avvio delle operazioni, ma dopo quasi due ore di riunione, il sindaco, di quella che è stata definita la discarica dei veleni, dichiara interrotto ogni rapporto con le parti. Un percorso iniziato circa tre anni fa, un percorso condiviso che vedeva come protagonisti il Ministero, il Commissario, la Regione, il Comune e Solvè, oggi è un percorso, a mio parere, che si interrompe. Abbiamo scoperto che Solvè e il Ministero non condividono più il percorso fatto, per cui a questo punto il Comune si sente svingolato dagli impegni portati avanti fino ad oggi e da domani il Comune farà altre azioni per tutelare il Comune, il Paese, i cittadini. Quali sono i punti che hanno visto d'accordo il Ministero e la Solvè e invece noi il Comune di Bussi? Noi oggi abbiamo scoperto che Solvè dal primo novembre ad oggi ha sentito una serie di imprenditori tranne quello scelto dall'amministrazione comunale. Ancora dissapori tra sindacati, regione e azienda unica di trasporti, TUA a scatenare la protesta, le carenze gestionari e la contrarietà alla politica sui trasporti attuata dalla Giunta d'Alfonso. Per queste ragioni sono state indette due diverse giornate di sciopero. La prima il 27 di maggio, la seconda in programma il 10 giugno. Non si trova la quadra tra sindacati e società unica di trasporto TUA. Ad un anno dalla fusione ancora tensioni e dissapori sulla gestione aziendale, sui tagli effettuati, sulle condizioni dei mezzi, sulle carenze e dei controlli. E l'annuncio è quello di due nuovi scioperi in programma per il 27 maggio e il 10 giugno nella fascia che va dalle 9 alle 13. Se è vero che il numero dei componenti del CDA è ridotto perché c'è una sola società in luogo delle tre che c'erano prima. Per quanto riguarda invece i dirigenti, il numero dei dirigenti è rimasto sostanzialmente invariato. Quindi lo stesso numero dei dirigenti che c'erano sommando le tre aziende di trasporto, ce li ritroviamo adesso con la società unica di trasporto. E questo è assurdo. Troppe manchevolezze secondo Filt CGL che annovera un taglio di 8 milioni dal governo per mancato obiettivo, evasione tariffaria grave dovuta all'assenza di controlli sui mezzi, mancanza di trasparenza che contravviene agli standard di legge, assenza di autobus e treni per servizi essenziali e l'elenco prosegue per pagine e pagine. Il Consiglio regionale che si riunirà domani non ha portato all'interno dell'ordine del giorno il progetto di legge che dovrebbe disciplinare le regole, ovvero i servizi minimi di trasporto all'interno della regione Abruzzo. Invece domani ad esempio si parlerà della sorte dell'orso marsicano, però dei servizi minimi di trasporto non se ne parla affatto. E questo con delle conseguenze gravissime che già si sono verificate a partire dall'inizio di maggio e altre conseguenze negative ci saranno a partire da giugno, dove altri vettori in assenza di regole opereranno con la massima libertà e senza nessuna autorizzazione, stabilendo tariffe, stabilendo orari e stabilendo corsi. Rallenta anche a marzo la dinamica del mercato del lavoro in Abruzzo. L'osservatorio sul precariato dell'Inps ha registrato una netta diminuzione sia delle assunzioni che delle cessazioni dei rapporti di lavoro nel complesso. Tuttavia il saldo rimane largamente positivo, con 8.000 lavoratori in più, di cui 1.106 a tempo indeterminato. La frenata riguarda soprattutto i nuovi contratti a tempo indeterminato, meno 45% rispetto allo stesso periodo del 2015, a seguito del dimezzamento degli incentivi contenuti nella legge di stabilità. Nello scorso anno ben 37.000 assunzioni, 10.000 effettuate nel solo mese di dicembre, sono state incentivate dal sonero contributivo triennale. Secondo il segretario della Cisla Abruzzo Molise, Maurizio Spina, in Abruzzo e in Italia è importante fare la scelta giusta, continuando a favorire i contratti a tempo indeterminato, incentivandoli attraverso una riduzione strutturale del costo del lavoro. Per questo il sindacato chiede all'assessore al lavoro, Andrea Gerosolimo, di aprire un percorso comune con le forze economiche e sociali del territorio, per rilanciare il mercato del lavoro in regione, un tavolo di confronto per trovare soluzioni per il rilancio delle politiche, della crescita e dello sviluppo. E ora facciamo il punto sul bilancio del comune dell'Aquila. È il giorno del bilancio all'Aquila, dove dopo settimane di polemiche, scambi di accuse e tensioni che hanno interessato la stessa maggioranza, con i consiglieri dell'ala di sinistra che hanno annunciato il voto contrario, il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi su un documento tecnico per evitare lo scioglimento dell'assise. Un documento di programmazione economico-finanziaria che su molte voci riporta la sconsolante cifra dello zero, a partire da sociale, cultura e sport, tagli di servizi e lacrime e sangue testimoniato dall'aumento del 20% della tassa sui rifiuti. Se non ci sarà un ulteriore innalzamento delle imposte, ha annunciato il sindaco Cialente nei giorni scorsi, è solo perché dal governo arriveranno i fondi richiesti per coprire le maggiori spese e le mancate entrate legate al sisma. Da Roma non arriveranno i 24 milioni richiesti, né 18 che in un secondo momento sembravano sufficienti, ma solo, tra virgolette ovviamente, 16 milioni annunciati con una lettera dai sottosegretari De Vincenti e De Micheli che verranno sbloccati con il decreto enti locali. Il via libera dovrebbe, salvo imprevisti, arrivare a metà giugno e a quel punto la Giunta Comunale si riunirà d'urgenza per votare un maxiemendamento che sarà dunque il vero e proprio bilancio di previsione dell'ente che verrà poi discusso in prima commissione e in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva. La seduta di oggi pomeriggio con l'eventuale seconda convocazione per mercoledì prossimo rappresenta sicuramente una particolarità se non proprio si vuol parlare di un'anomalia con le opposizioni sul piede di guerra e veleni che hanno lacerato la stessa coalizione di governo. Difficile però pensare ad una clamorosa caduta di Cialente di suoi visto che al momento nessuno sembra intenzionato ad andare ad elezioni anticipate. La raccolta firme per far cadere la maggioranza annunciata dai salviniani si è rivelata un fuoco di paglia e da fonti ben informate risulta che anche nelle opposizioni non tutti sembravano propensi a porre il proprio sigillo sul documento di sfiducia al sindaco. Meglio un bilancio tecnico che andare al voto pensano molti a Villa Gioia in attesa di riposizionamenti e movimenti che porteranno all'amministrativa del 2017 la cui campagna elettorale con buona pace di molti è già iniziata da tempo. Cambia il calendario della raccolta differenziata nella città di Teramo per il periodo estivo viene introdotto un giorno in più il giovedì per il conferimento dell'umido. Novità importanti per i cittadini e i teramani per quanto riguarda la raccolta differenziata oggi la presentazione con lo slogan la raccolta si fa grande. Innanzitutto abbiamo recepito la richiesta dell'amministrazione comunale di inserire per l'estate per 13 settimane il terzo giro di raccolta per quanto riguarda l'umido ovviamente dovendo mantenere i costi costanti abbiamo la raccolta per quanto riguarda la carta e il vetro sarà ogni 15 giorni. I bidoni condominali li stiamo distribuendo li abbiamo quasi tutti distribuiti per quanto riguarda la zona di Collaterrato San Nicolò e c'era dovrebbe arrivare oggi un altro stock di oltre 800 bidoni carrellati quindi potremmo servire altri 400 condomini in tempi veramente rapidi. Abbiamo favorito la raccolta dell'organico che d'estate diventa insidiosa e poco carina tenerla a casa mentre per quanto riguarda il vetro e la carta è più semplice anche perché comunque noi ci auguriamo adesso stiamo ancora consegnando i contenitori della carta e del vetro condominiale da qui anche il titolo del nostro calendario che si chiama che nella nostra città la raccolta si fa grande ci auguriamo che si faccia grande nel senso che più condomini abbiano i contenitori condominali che agevolano anche questa raccolta quindicinale si faccia grande anche in termini di raccolta differenziata noi aspiriamo al 70% parte domani la tre giorni dedicata alla ricostruzione con incontri visite ai cantieri iniziative per gli studenti denominata Officina L'Aquila da domani e sino al 26 maggio all'auditorium del Parco del Castello dell'Aquila torna Officina L'Aquila evento promosso e organizzato da Ance Abruzzo insieme a Ance L'Aquila Ance Chieti Ance Pescara Ance Teramo e Carza SRL frutto dell'esperienza proficua delle 5 edizioni del Salone della Ricostruzione che ha visto ruotare nel capoluogo dell'Abruzzo colpito dal sisma 10.000 visitatori annuali arrivati da ogni parte d'Italia per visitare una vetrina esclusiva per tutte le tecnologie impiegate nella ricostruzione del cratere per comunicare e valorizzare la straordinaria esperienza della ricostruzione in corso arrivata a una fase di vivace evoluzione la tradizionale rassegna fieristica sulle tecniche e materiali per ricostruire viene superata con una serie di incontri dalla formula innovativa rassegna internazionale che presenterà le più interessanti esperienze nel campo del restauro e della riqualificazione urbana realizzate all'Aquila in Europa l'Aquila è oggi un cantiere di recupero architettonico urbano di valenza internazionale un enorme laboratorio dove si sta esprimendo un'avanzata sperimentazione nei cambi combinati del restauro del recupero del consolidamento antisismico e dell'adeguamento energetico un'esperienza unica che poi deve rappresentare un volano eccezionale di sviluppo c'è un evidente salto di qualità nell'edizione di quest'anno di Officina all'Aquila che ben si sposa con il fatto che a sette anni dal sisma la ricostruzione deve imparare a usare ormai il linguaggio della smart society della sostenibilità sociale del confronto con modelli urbani architettonici e di restauro di livello internazionale il presidente di Ancel Ricoricci ha sottolineato le priorità dell'associazione che presiede il processo di ricostruzione un laboratorio mondiale di antisismica con Officina all'Aquila vogliamo proporre un nuovo modo di pensare la città che si sta costruendo sulla qualità degli interventi in corso di realizzazione e sulle prospettive si è concentrato l'intervento di Roberto Di Vincenzo presidente di Carza e coordinatore di Officina all'Aquila l'Aquila è anche un esperimento mai avvenuto prima in Italia di gestione della ricostruzione post-sisma un modello che consente ai cittadini proprietari di abitazioni di scegliere le imprese dopo una partenza lenta ora l'Aquila la ricostruzione sta correndo e presto restituirà un meraviglioso centro storico bellezza e qualità che sarà possibile toccare con mano e apprezzare nelle tre giornate attraverso cantieri aperti che con continue visite guidate permetterà per la prima volta di entrare nel cuore della ricostruzione e apriamo ora la pagina dello sport lo facciamo con la serie B con il Pescara ripresi oggi gli allenamenti per i biancazzurri e da sabato Daniele Verde si è riaggregato con il gruppo e sarà dunque a disposizione del tecnico Oddo per i playoff il capitano Memushai ha raggiunto il ritiro pre-europei della nazionale albanese ma rientrerà venerdì per poter giocare la prima gara di playoff domenica prossima e dei prossimi spareggi ha parlato ai nostri microfoni anche il centrocampista Alessandro Bruno noi abbiamo sempre fatto quello che dovevamo fare in qualche circostanza potevamo fare meglio ma degli errori ci stanno arriviamo ai playoff con grande voglia e determinazione per fare bene se continuiamo così a giocare penso che comunque l'obiettivo lo possiamo raggiungere sempre determinati e concentrati questa è la prima cosa dobbiamo solo affrontare le gare dei playoff con grande determinazione e volontà siamo bene fisicamente la squadra c'è cerchiamo di giocare cerchiamo di coinvolgere tutti l'ambiente la stampa dobbiamo essere tutti positivi per cercare di raggiungere un grande traguardo sono due altre mie squadre quadrate e dobbiamo essere concentrate e motivati perché con il Novara non abbiamo mai vinto quindi è una squadra che ci ha messo in difficoltà in qualche circostanza con il Bari è stato diverso però i playoff sono partiti a sé chi ha più motivazioni e voglia di vincere alla fine passa dal turno Alessandro si ricomincia un mini campionato in questi playoff però questo quarto posto che è sicuramente un piazzamento di riguardo per il Pescara regala anche dei vantaggi che ora starà a voi cercare di sfruttare ma come dicevi tu si ricomincia da zero sì esatto partiamo in questa semifinale un passettino avanti cerchiamo di tenerci stretto questo piccolo vantaggio e vedere poi dall'altra semifinale ma noi ripeto dobbiamo guardare a noi stessi che se continuiamo a giocare con questa determinazione e con questa voglia sicuramente faremo un'ottima semifinale sarà importante anche nei playoff il fattore campo il Pescara giocherà la semifinale comunque nella gara di ritorno in casa e ci vorrà il pubblico delle grandi occasioni pubblico che anche questa sera ha cercato di spingervi alla vittoria certo il pubblico ci sarà il pubblico è venuto anche stasera ci ha trascinato ci dispiace che noi gli abbiamo regalato la vittoria però a fine partita ci hanno applaudito hanno visto che comunque ce l'abbiamo messa tutta ci deve spingere anche in questa semifinale speriamo anche nella finale e ora in chiave playoff facciamo il punto in casa Virtus Lanciano è iniziata l'operazione playoff per la Virtus Lanciano che dopo aver rischiato seriamente di sprofondare nel baratro della Lega Pro nella gara spareggio di Livorno ora può ancora sperare nella permanenza in cadetteria non è la prima volta in stagione che la squadra frentana sembra prossima a superare un punto di non ritorno il difficile girone d'andata la crisi societaria l'addio di giocatori bandiera l'esonero di D'Aversa e in tempi più recenti la penalizzazione poi scontata le partite interne con Avellino e Ternana infine il match dell'Ardenza in tutti questi momenti però la Virtus Lanciano ha sempre tirato fuori gli artigli si è sempre rialzata sfruttando la gioventù e l'incoscienza di alcuni giovani o anche facendo leva sulla vecchia guardia impersonificata venerdì scorso da Manuel Turchi che ha fatto un regalo alla sua Valentina e a tutti i tifosi ora poco meno di due settimane mancano alla gara d'andata con la Salernitana non c'è il tempo per rammaricarsi su quanto sia costato quel gol di Valiant senza il quale la salvezza sarebbe cosa fatta c'è però il tempo per recuperare l'infortunato Aquilanti per poter restringere a due il campo degli assenti gli squalificati Gian Donato e Di Francesco che però per il return match ci saranno Di Francesco potrebbe essere decisivo come già lo è stato alla Rechi un paio di mesi fa Gian Donato si è rivelato tra i più positivi di questo finale di stagione e sarà utilissimo anche lui circa due settimane anche per la definizione di quei procedimenti sportivi che hanno fatto posticipare le date dei play-out tra il deferimento bis della procura federale e il ricorso della procura generale del CONI la Virtus Lanciano si trova tra due fuochi che però potrebbero non bruciarla perché se come sembra il punto restituito per la rinuncia allo stipendio dello stesso Turchi non è in discussione e non sarà tolto il rischio è al massimo di perdere due punti ma la Virtus a quota 42 sarebbe in vantaggio nella classifica volsa su Modena e Livorno questioni queste dalle quali i giocatori e staff tecnico continueranno a isolarsi l'obiettivo è il campo e le parole di Maragliulo ne sono una conferma di questa cosa si preoccuperà sicuramente la società continuerà il lavoro che sta facendo noi sul campo abbiamo dimostrato per l'ennesima volta di volerci salvare a tutti i costi la squadra la squadra è pronta avremo qualche giorno di più cercheremo di ricaricare bene le batterie nel servizio si parlava di deferimento bis ed è effettivamente arrivato nel tardo pomeriggio il deferimento da parte del procuratore federale Stefano Palazzi nei confronti della Virtus Lanciano per non aver documentato alla Covisoc l'avvenuto pagamento entro il termine del 16 dicembre 2015 delle ritenute IRPEF dei contributi IMS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2015 la società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal signor Luca Leone e al proposito del caso Lanciano con una interrogazione al premier Matteo Renzi e al ministro della giustizia Andrea Orlando la senatrice del PD Stefania Pezzopane chiede quali siano le ragioni che hanno spinto la Lega il suo presidente i suoi organi la procura federale il CONI ad assumere nei confronti della Virtus Lanciano un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello tenuto fino ad oggi nei confronti di altre società sia in relazione alle penalizzazioni applicate e alla restituzione di punti sia riguardo a casi ben più gravi come quelli di compravendita di partite alla luce di tutto questo chiedo al governo conclude la Pezzopane se non si ritenga necessario di dover fare piena luce su questi fatti in modo da garantire il corretto svolgimento del campionato di Serie B che vede già la Virtus Lanciano nei play-out impedendo che ulteriori penalizzazioni alla società possano stravolgere e falsare la classifica del campionato di Serie B dell'anno in corso già compromessa alla presenza di gravi reati rimasti fino ad oggi impuniti e ora parliamo di Lega Pro e parliamo di l'Aquila Calcio nel prossimo servizio i giocatori pagano il biglietto della trasferta ai tifosi dopo l'iniziativa del pullman gratuito messo a disposizione dei supporter da alcuni soci rosso-blu i calciatori aquilani ieri sera attraverso una nota ufficiale hanno voluto farsi promotore di una nuova iniziativa in vista della gara di ritorno dei play-out il prossimo 28 maggio a Rimini i calciatori sostanzialmente pagheranno ai tifosi che volessero aderire all'iniziativa il biglietto del settore e ospiti un modo hanno sottolineato per stringerli ancora di più attorno alla squadra nell'ultima grande occasione per mantenere la categoria e anche per ringraziarli hanno detto del sostegno fornito durante tutta la stagione nonostante le difficoltà ed i risultati abbastanza deludenti sul fronte squadra non dovrebbero esserci problemi per Vittorio Triarico uscito a causa dei crampi nel match di sabato con i Rimini al fattori dovrebbero entrare dal primo minuto anche l'esperto Emanuele Pesoli plenamente recuperato dall'infortunio più difficile invece appare l'impiego del centrocampista Danilo Bulevardi sorpresa Andrea Mancini una gara da titolare ad Aprilia e scampoli contro i Rimini ottima impressione ed è stata tra gli addetti ai lavori potrebbe essere lui la carta vincente il ragazzo ha fammi di campo e anche i tifosi chiedono a gran voce il suo utilizzo sin dal primo minuto intanto oggi l'Aquila ha ripreso gli allenamenti per preparare l'ultima chiamata alla salvezza la squadra salinerà tutta la settimana e venerdì partirà per il ritiro in casa Teramo in attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore ieri nei nostri studi è stato ospite l'oramai ex trainer biancorosso Vincenzo Vivarini che ha spiegato i motivi dell'addio vediamo quando hai capito che questo era l'ultimo anno a Teramo ma perché perché comunque ritornando al discorso adesso il Teramo secondo me deve ecco cancellare tutto deve ripartire con grande umiltà con grande applicazione mettendo le basi per ricreare un progetto nuovo questo è un momento triste perché ogni volta che c'è che si arriva a una fine ti subentra un po' di tristezza io quando abbiamo finito questo campionato avevo dentro un po' di tristezza quindi quello è il segnale che devi cambiare via Fabio lo conosco da tanto tanti anni secondo me è un bel professionista ha fatto anche una buona una buona carriera secondo me qua a Teramo si rimette in gioco e secondo me c'è anche la motivazione giusta per ricreare quel progetto di cui parlavo prima Zauli Pea Colucci i nomi che sono usciti e tu chi gli consiglieresti al Teramo? ma sono tutti allenatori validi Zauli ha fatto un grandissimo lavoro Sant'Arcangelo quest'anno Pea è un grande professionista ha avuto grandi chance anche in serie B è un allenatore esperto però sicuramente sceglierà bene il presidente devo ringraziare devo ringraziare sicuramente Teramo per tutto questo spero che venga fuori una buona possibilità di lavoro per me in questo momento qua ci sono solo chiacchiere quindi non è utile parlarne io diciamo in questo momento ecco mi piace anche in questa trasmissione ringraziare veramente tutti è vero che aspetterai un'opportunità dalla serie B? ma sì diciamo di sì questo è quello che ho in mente speriamo che arrivi finisce qui la seconda edizione del TG6 ma vi aspettiamo questa sera alle ore 21 con il replay la trasmissione di Enrico Rocchi che si proietterà già sui playoff del Pescara che inizieranno domenica prossima grazie per l'attenzione buona serata grazie per la visione